Arriva la prima risposta dello Stato dopo l'ennesimo atto criminale che ha scosso la città di Foggia. L'omicidio di Francesca Marasco, la 72enne uccisa a coltellate all'interno della sua tabaccheria, lunedì scorso. Venerdì 8 settembre la Commissione Parlamentare Antimafia sarà nel capologo Dauno per incontrare forze dell'ordine e istituzioni del territorio e discutere della questione sicurezza. Ad annunciarlo il vicepresidente della Commissione Antimafia, all'onorevole Mauro Dattis in una nota seguita al brutale assassino della tabaccaia. Foggia non è sola e c'è uno Stato che lotta incessantemente per liberarla, è riportato nel comunicato del deputato di Forza Italia. Tra i temi da affrontare urgentemente il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, sottolinea Dattis, anche se accanto agli interventi di controllo e repressione bisogna avviare un confronto su programmi di integrazione sociale e culturale. Intanto proseguono incessantemente le indagini dei carabinieri per dare un nome all'assassino della commerciante. Al vaglio degli investigatori i filmati degli impianti di videosorveglianza delle attività presenti nei pressi della tabaccheria in via Marchese De Rosa. Ore di registrazioni controllate minuziosamente dai militari nella speranza che possano fornire elementi utili all'identificazione del killer che potrebbe essere stato immortalato da una telecamera al momento della fuga, durante la quale si è anche sbarazzato dell'arma del delitto. Quanto al movente è sempre più concreta l'ipotesi della rapina finita in tragedia. L'assassino potrebbe aver chiesto alla tabaccaia di consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, poche decine di euro, e a rifiuto della vittima l'avrebbe accoltellata a morte. Sarebbero quattro i fendenti che hanno raggiunto l'anziana, ma anche questo aspetto sarà accertato solo con i risultati dell'autopsia. Tuttavia quella della rapina non è l'unica pista abbattuta dagli inquirenti che nelle ultime ore stanno svolgendo ulteriori accertamenti sui quali vige però il massimo riservo.